Allora ciao, questo video è per parlarvi molto brevemente del progetto di Fuga dalla Morte. Come sapete stiamo per realizzare la seconda stagione. So che molti di voi l'hanno seguita e abbiamo iniziato nel 2013, quindi per un po' di anni la gente ci ha sempre chiesto ma fate la seconda stagione, purtroppo è un progetto dispendioso. Quindi per molto tempo non ci sono stati soldi, adesso in parte pare si siano trovati. Dico pare perché io non è che, cioè sembra che ce li metto io, alla fine fanno tutto loro, però ci tendiamo a sponsorizzare questa cosa perché, dico, li abbiamo trovati in parte nel senso che abbiamo bisogno del supporto di tutti, quindi abbiamo aperto in occasione della seconda stagione di Fuga dalla Morte una campagna di crowdfunding, crowd è la folla quindi siete tutti voi e il funding sono i soldi che ci mettete in sostanza. Comunque, se ci tenete a vedere la seconda stagione e volete supportare il progetto potete fare una piccola donazione, piccola anche grande, una donazione sul sito, sul link che vi metto da qualche parte in descrizione, il sito è appela, ad ogni donazione corrisponde un premio, quindi riceverete anche qualcosa in cambio e vi ricordiamo, cosa importante, che non è che vi chiediamo donazioni per poterci guadagnare da questo progetto, nessuno ci ricaverà nulla e solo per finanziare tutto ciò che serve alla produzione della serie, quindi dall'attrezzatura video ai viaggi e gli hotel per quelli che vengono da fuori, ai pasti, queste cose qui, solo per darci una mano per finanziare al meglio la realizzazione di questa webserie. Quindi ogni piccolo contributo è ben accetto e se tutto andrà bene ci si vedrà presto con la seconda stagione di Fuga dalla Morte, Fuga dalla Morte 2. Grazie di cuore a chi vorrà sostenerci, io vi lascio anche il video per sicurezza, quello che ha fatto Michael riguardo alla questione, così magari c'è qualche dettaglio in più, se qualcosa non vi è chiaro e questo è quanto, noi ci si vede presto su questo canale o sulla pagina Facebook per nuovi video. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.